Una vita anticipazioni 8 novembre 2022 Una vita anticipazioni 8 novembre 2022, prosegue l'ultima settimana di programmazione su Canale 5 per la storia di Acacias 38. Questo è il titolo originale spagnolo della telenovela ambientata nel XIX secolo. In Spagna va in onda su RTV e, in Italia ci tiene compagnia dal lontano 2015 su Canale 5. Nello specifico, quando va in onda Una vita su Canale 5? Ecco un riepilogo degli appuntamenti con la SOP, dal lunedì al venerdì circa con mezzo episodio a partire dalle ore 14 e 10 il sabato con un episodio e mezzo a partire dalle ore 14 e 50. Ricordiamo infine che sabato 12 novembre Una vita conclude la sua messa in onda su Canale 5. Una vita 8 novembre 2022 Trama puntata in questa puntata di Una vita in onda martedì 8 novembre a partire dalle ore 14 e 10, Dory accetta la proposta di matrimonio di Felipe per la gioia di tutti. Marcello propone a Genoveva di consultare un altro medico, ma Gabriella dissuade la madre. Luz Divina sta pensando di lasciare Acacias, e Marcello cerca di trattenerla rivelandole i suoi sentimenti. Nel frattempo, Hortensia racconta alla figlia Azucena la verità sul padre e le rivela che è nata fuori dal matrimonio. La ragazza la sprona a raccontare la verità anche a Pasquale. Una vita puntata 8 novembre 2022 novembre